Un saluto dall'Etigi della mobilità dopo una fase sperimentale partita ufficialmente l'app Roma Corre in Bici, realizzata da Roma Servizi per la mobilità per promuovere l'utilizzo della bicicletta e del monopattino elettrico negli spostamenti in città. Doppio l'obiettivo di questa applicazione è fare rete con aziende dotate di mobility manager, ovvero il responsabile degli spostamenti casa-lavoro per riconoscere bonus ai dipendenti che per raggiungere l'ufficio utilizzano la bicicletta e poi dare a tutti la possibilità di convertire i chilometri percorsi in sconti da utilizzare in negozi e attività commerciali che aderiranno al progetto. Maggiori dettagli sull'app Roma Corre in Bici sono su romamobilita.it